Ciao ragazzi, sono il professore Scalera. Stamattina siamo presso la Scalera Clinic e vi voglio parlare del laser CO2 frazionato. Questo laser è utilizzato per il ringiovanimento del viso, per le cicatrici d'acne, per il codice a barra. Vi farò vedere un trattamento. Ovviamente tali apparecchiature devono essere utilizzate solo da medici esperti, perché possono anche produrre effetti secondari importanti, per cui è importante che sia un medico o addirittura un chirurgo che utilizzi questo laser. Questo laser si può eseguire in 15 litri.